a destra, mi chiede di continuare. Va bene, capisco. Presidente. Presidente della Commissione. Al posto 358 ha indossato la maschera della signora Merkel. Devo dire che sicuramente è più bello così. Il collega Bonanno, quindi l'abbiamo visto, si può accomodare. Grazie onorevole. Può continuare Presidente Juncker. Viene finanziato dal denaro dei contribuenti tutto questo. Presidente Juncker. Grazie. 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 Grazie.